ribattere anticipo a pezzo strasfico il punteggio finale 200 2 contro 2 online ragazzi barbara è il mio alleato quindi quello che trovo di fronte possiamo vedere le carte dell'avversario siamo partiti abbastanza bene con quattro carte ciascuno 7 fortunatamente non cambia chiesiti bene due carte a nostro nemico è più 4 per me non ci voleva questo più 6 aia ho più 2 sarebbero non sono raddoppiate in questo caso vediamo che cosa mi lascio giù un divieto un altro divieto cambio colore azzurro ok per me va anche bene adesso tocca il giallo rosso niente da fare però un quattro rosso bene vediamo questo giro il giallo ma bisogna vedere che cosa mi lascia giù lui perchè ho paura è cambiato colore è questo il problema 8 azzurro più 2 rosso più 4 obbligato a giocarlo giochiamo giallo per vabbè perchè anche il nostro aliato barbara ha quel colore e soprattutto perchè può giocare gioca l'8 non ha giallo quindi attenzione e ancora il divieto questo nemico ce l'ha con me con i divieti il nemico dei divieti tre volte mi è già bloccato però siamo lì con barbara due carte cambio giro e adesso con il rosso non ho la possibilità di cambiare purtroppo il colore ma speriamo ci pensi si gioca pescare sei verde gara decisiva attenzione si gioca rosso ha giocato rosso abbiamo vinto la prima vittoria online chiudiamo con ben 122 punti di vantaggio dopo la prima vittoria continuiamo questo video con la seconda partita barbara è messa molto bene con addirittura 2 più 4 in mano meno messo peggio io che ho soltanto un cambio giro azzurro quindi più i 4 saggiamente se li tiene giustamente tiene tutto cambio colore verde mi annuncerò mi tocca pescare il strascico mi fischiamo diverse carte mamma mia che è finalmente un veato però non ne ho neanche una in mano anticipo una regola anticipo una regola meglio me ahhh aveva una più due mani si becca sei carte però ne ha preso un'altra di più quattro qualche carta l'ha pescata fortunatamente per noi doppio 8 per me è importante liberare più carte possibili divieto non ho un 6 mi gioco il verde solo perchè barbara c'è il verde e poi dare il più 2 che è comunque fastidioso come carta visto che può essere ribattuta cambio giro mi tocca cambiare azzurro quindi le giocherà a più quattro la cosa buona è che ho fatto pescare qualche carta al nostro avversario più due per barbara che può ribattere che peccato le carte se le prende lo stesso due a me io non posso fare proprio niente divieto questo nemico a sinistra questo avversario veramente terribile mi da più due e divieti a tutto spiano ah ovviamente il mazzo che utilizziamo è quello di di Raiman questa volta va a vuoto e si prende 6 carte non farò non dopo a non non Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fase di partita abbastanza equilibrato. Grazie a tutti. Questa volta hanno chiuso i nostri avversari. Ok, 122, ah, al 91, si arriva ai 200, quindi è importante adesso vincere questo round per aggiungersi la partita. Doppio divieto sono messo bene a carte, meno bene stavolta Barbara. Ho un doppio di vieto, però personalmente vorrei... però dai, è una buona opportunità per giocare ad una doppia carta. Non affortunata Barbara che continua a pescare un sacco di carte, però giocano più due. giochiamo più due così giocano un sacco di carte, ovviamente c'è il rischio di poi di prenderne altrettanto, però... lo giocco giallo, visto che Barbara comunque non ha una verde... non ci vuole... ragazzi ci proviamo? Sì, ho vinto, si prende quattro carte. Una carta per me è verde, nel mio caso non posso giocarla. e purtroppo... mi evita la chiusura... non ho uno giallo in mano, altrimenti sarebbe stato più utile. Più due. Prendere a fare... potremmo già chiuderla questa parte e vincerla, ma... Ancora no. Due giro. Prefisco dare due carte e ancora... e adesso, insomma... ho giocato verde... vediamo un attimino... dagli il numero giusto... e chiudiamo la partita e probabilmente la vinciamo anche perché hanno tante carte... in gioco... una vita social... trofeo guadagnato di uno. Bene ragazzi, comunque la partita è finita... e l'abbiamo vinta... spero che questo video vi sia piaciuto... lasciate un like se vi è piaciuto... siamo riusciti a vincere due round e a perdere uno... e giudicarci comunque quello che conta alla partita... e noi ci vediamo al prossimo video di uno... ciao ragazzi!